dai che vi porto un po' a correre con me un po' di trail urbano su forza niente scuse è un sentierino che ho scoperto di recente certo non è il gir di monte però è divertente un po' di saliscendi un po' di ostacoli un po' di paciugo tutto fa brodo per l'allenamento e per sconfiggere o meglio non esageriamo per tenere testa ai gemellini in testa di trail in silenzio andiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e qua finisce il giro sono 11 chilometri non tutti di sterrato perché oggi l'allenamento è equilibrio e sterrato alla prossima